Ci spostiamo a Pordenone dove si è verificato un altro dramma, questa volta si tratta di una ragazza cinese di 28 anni che si è lasciata morire per amore. Si è lasciata morire a 28 anni, verosimilmente per amore, e il suo gesto è stato scoperto dopo due giorni quando il fidanzato, non riuscendosi a mettere in contatto con lei, impossibilitato a recarsi nel suo appartamento, ha chiesto ad un amico se poteva andare a vedere se era successo qualcosa. Un timore che si è trasformato in una triste realtà. Ieri, poco dopo le 15, l'uomo ha suonato ripetutamente il campanello e non ottenendo risposta è entrato nell'appartamento sollevando una persiana lasciata semiaperta, così come la porta del terrazzino. La giovane era morta sul letto, in mano alle fotografie del suo compagno. La giovane 28enne di origini cinesi da tempo aveva una relazione con un connazionale di 35 anni. Con il tempo il rapporto era divenuto difficile, tanto che un condomino ieri ha confidato più volte aveva sentito delle liti dentro quelle mura. Dunque il compagno, non riuscendo da qualche giorno a mettersi in contatto con la giovane, che aveva il telefonino spento e non riuscendo a raggiungerla, aveva chiesto ad un amico di andare a vedere se non fosse successo qualcosa. L'uomo sentito dai carabinieri ha suonato ripetutamente al campanello dell'appartamento, che si trova in la viale Grigoletti, in un complesso condominiale. Non ottenendo risposta ha alzato la persiana lasciata semiaperta, così come la porta, e dunque è entrato in casa e ha fatto la drammatica scoperta. La ragazza, regolare in Italia, disoccupata da quasi un anno dopo aver lavorato in un centro massaggi, giaceva sul letto, in mano teneva le foto del fidanzato. In casa, nessun biglietto. Atterra una pentola che era stata utilizzata come bracere, forse per riscaldarsi. Proprio il monossido di carbonio sarebbe stata la causa dell'intossicazione e della morte. A quel punto l'uomo ha chiamato il 112, sul posto i vigili del fuoco di Pordenone, che hanno aperto le finestre areando il locale, e il personale dell'ospedale che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane e allertare le forze dell'ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Pordenone, con il medico legale Giovanni Delben. È stata esclusa la responsabilità di terzi nel decesso. I militari hanno dunque rintracciato il compagno della giovane, che è stato sentito in caserma. Del fatto è stato informato anche il pubblico ministero Federico Facchin. Grazie a tutti. Grazie.